guardate soffetente cosa mi ha scritto leggete tutto legge questo libro parla di Atlantis ma non la posizione non la posizione ma non solo la posizione ma non la storia per la mente di Atlantis e di altri temi 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 in italiano è temi T-A-T-I-M-I e è mio e e mi consiglio to buy this book because turc dan Atlantis mi rendete conto ha detto che ha trovato Atlantis spero che sia un troll perché se non troll questo qua lo dovrò andare a prendere sciamanicamente